Povere, 8 Rear, 9 Raio di Ruggi, questo è il campo dei partenari, i cavalli allineati dietro al mezzo meccanico, pronti al lancio, macchina che stacca in questo momento, cavalli partiti, vanillotta, rondine jet con il numero 4 Raya Hawks, attenzione anche a... Numero 2 Ringo Jor SM, squalificato. Finisce, finisce al tabellone Ringo Jor SM, al comando della corsa c'è rondine jet. Numero 3 Redes, squalificato. 14,6 per i primi 200 di corsa, rondine jet a dettare il ritmo, Rania Hawks in questo momento in seconda posizione, poi a seguire c'è Rili DL, cavalli che intanto si avvicinano verso il passaggio ai 400, rondine jet al comando, 31 per il battistrada, cavalli che vanno ad affrontare la piegata, Rania Hawks, eccolo qua, dietro alle spalle del numero 1, pilotato Roberto Andreghetti, in terza posizione c'è Rili DL, poi via via gli altri, siamo al completamento dei 600, 45,9 il passaggio ai 600, intanto percorsi esterni, prova a muoversi anche Raiodiruggi al comando, però tiene rondine jet, quindi non cambia nulla, in testa la corsa, poi a seguire c'è Rania Hawks e poi... Numero 9 Raiodiruggi, squalificato. Il passaggio al mezzo miglio, 1-0-1-2 al comando, rimane sempre rondine jet con in scia il 4 di Rania Hawks e poi ancora il 5 di Rili DL, intanto per corsi esterni si muove Rebellia LB, 1-16-8, passaggio al chilometro, all'incirca 600 metri a chiudere questa terza qui a Padova, rondine jet, ancora in testa, dettare il ritmo, continua la sua avanzata, Rebellia LB, eccolo Rebellia LB che va quasi ad apparigliare il battistrada. Andiamo verso l'ultima piegata, al comando tiene rondine jet, ma adesso a mettere pressione si avvicina anche Rili DL con Andrea Farolfi che in terza ruota prova la patata. Siamo a meno di 200 dall'epilogo della corsa, cavalli che completano la piegata, si va in retta, Roberto Andreghetti ancora in testa, ma ecco il 5 di Rili DL che prova a passare. Passa Farolfi con Rili DL e va a chiudere davanti al numero 1 di rondine jet per la terza piazza, dovrebbe essere Rebellia LB ad avere ragione di Rania Hawks. Quindi su tutti Rili DL con Andrea Farolfi che proprio in retta trova lo spunticente, poi a rondine jet che aveva fatto la corsa fino a quel momento, deve accontentarsi della seconda piazza per la terza, dovrebbe essere Rebellia LB su Rania Hawks in questa terza qui a Padova.